Questa è la Super Hero Academy, dove giovani cadetti si allenano per combattere il crimine. Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman e Flash hanno selezionato alcune giovani reclute per seguire uno speciale corso di addestramento e diventare loro alleati nella lotta al crimine. Per superare tutte le prove, i cadetti dovranno fare affidamento su tutte le loro abilità. La seconda prova è Superman. La prova consiste nell'indossare il costume di Superman il più velocemente possibile e i cadetti devono piegare e riporre la loro felpa dell'Academy prima di diventare Superman. Sotto pressione, anche i compiti più facili possono diventare difficili. Sotto pressione, anche i compiti più facili. Sotto pressione, anche i compiti più facili. La seconda prova è stata superata. Ci sono sicuramente margini di miglioramento, ma siamo sulla buona strada. Altre prove attendono i nostri cadetti. Questa è la Super Hero Academy.